La presenza del ministro, al di là della sua disponibilità e cortesia, è frutto della democrazia parlamentare. Mi scusi, onorevole Lupi, onorevole Sgarbi, deve indossare correttamente la mascherina. Non è che qui ci sono 629 imbecilli e uno intelligente. Deve indossarla, ha capito? Non sugli occhiali. La richiamo all'ordine per la prima volta. Dopo la seconda c'è l'espulsione dall'aula. Indossi correttamente la mascherina, chiedo anche l'aiuto dei questori, per favore. Chiedo l'aiuto dei questori. E' una questione di rispetto per i colleghi, onorevole Sgarbi. Infatti sono loro che chiedono giustamente il rispetto delle regole che sono state stabilite in quest'aula. La richiamo all'ordine per la seconda volta. Grazie, onorevole Lupi. Prego, onorevole Lupi, proseguami. Scusi.